Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono i W2FND, Lucio, ed oggi vedremo di misurare la permeabilità delle ferriti col VNA. Questo perché i dati pubblicati dai vari costruttori sui loro siti hanno delle tolleranze molto elevate e noi spesso nei nostri progetti ci troviamo delle sorprese. Quindi buona visione! Per ricavare la permeabilità complessa di una ferrite è necessario conoscere l'area attraversata dal flusso e la lunghezza del circuito magnetico percorso dal flusso. Questi due dati sono reperibili presso i costruttori per esempio FireRite o i rivenditori di ferriti come Amidon. Se sui siti della FireRite e dell'Amidon non riuscite a trovare i dati che servono perché magari la vostra ferrite è un po' particolare, li potete misurare col calibro, però in questo caso dovete sapere che il risultato finale sarà meno preciso perché per esempio in un toroide il flusso magnetico non attraversa in modo omogeneo tutta la superficie della sezione ma si addensa verso il centro piuttosto che verso l'esterno. Quindi l'area della sezione che misurate col calibro non sarà la stessa area che viene attraversata dal flusso e così anche per il percorso magnetico medio. Questo percorso magnetico medio sarà un pochino più vicino al centro piuttosto che essere quello veramente medio cioè quello che sta in mezzo. Ma in mancanza dei dati vanno bene anche questi. sappiate però che il risultato non sarà così accurato. Trovate in un modo o nell'altro l'area attraversata dal flusso e la lunghezza del circuito magnetico medio dobbiamo misurare col VNA l'impedenza di una o più spire attorno alla nostra ferrite. Misuriamo l'impedenza in termini di resistenza e di riattanza alla frequenza di interesse o alle frequenze di interesse. Una volta ottenute le misure di resistenza e di riattanza a una determinata frequenza col VNA dovremo applicare queste formule qua. Come vedete queste formule sono abbastanza complesse. Da queste formule qua ricaveremo mu primo e mu secondo. Una volta noti mu primo e mu secondo potremo ricavare la permeabilità magnetica con quest'altra formula qua e il fattore di induttanza a con L con quest'ultima formula. Tutte queste formule sono prese da Schnelling Soft Ferrites che vi lascio qui in vi lascio qui il sito dove potete scaricare tutto il testo. Il testo è del 1969 un po' datato però i principi sono validi. Ma dato che le formule sono piuttosto complesse sono piuttosto complesse e prolisse io vi metterò qui in descrizione vi metterò in descrizione qua sotto un comodo foglio Excel dove troverete già un po' tutto un po' tutto fatto. Dato che i VNA che utilizziamo noi hanno al loro interno un ponte RF il cui valore nominale è quello di 50 ohm l'accuratezza di questi strumenti è abbastanza buona 5 volte più e 5 volte meno il valore nominale del ponte. Quindi faremo delle misure accurate solamente tra i 10 e i 250 ohm. Al di fuori di questi limiti l'accuratezza purtroppo cala drasticamente e quindi anche le nostre misure diventeranno poco accurate. Per questo motivo vi ho detto prima che bisogna fare una o più spire perché di solito se le ferriti sono abbastanza permeabili basta una spira ma per ferriti a bassa permeabilità è necessario fare più spire farne due tre anche più. Purtroppo fare più spire vuol dire avere più capacità parassite tra spira e spire e quindi falsare ancora di più la misura perché i parametri parassiti che affliggono la nostra text fixture vanno a falsare la misura cosa che avviene anche con una spira sola però se la ferrite è molto permeabile questo dato verrà trascurato si diluirà mentre se la ferrite è poco permeabile invece questo dato può essere anche importante. Tutto questo panegirico per dirvi che la misura dei parametri di una ferrite si può fare col VNA però bisogna tenere conto di tutte queste cose qua quindi tra 10 ohm e 250 ohm e avere degli elementi parassiti della fixture molto piccoli quindi fare con pochissime spire ciò penalizza le ferriti a bassa permeabilità che danno dei risultati spesso molto poco accurati. Adesso andiamo in laboratorio e vediamo di fare qualche misura. Ho calibrato il nano VNA tra 100 kHz e 30 MHz. L'ho calibrato col kitzol sul piano di riferimento convenzionale del connettore N ed ho aggiunto 133 picosepondi spostando il piano di convenzionale sul piano di misura dove ho inserito una spira di filo comunissimo filo. Sul display rappresento con la traccia gialla la resistenza e con la traccia verde la reattanza. Entrambe sono rappresentate mediante una scala di 20 ohm per quadretto. Come potete vedere questa spira qua è tipicamente induttiva infatti la traccia della reattanza cresce linearmente con la frequenza e a 30 MHz presenta 8,39 ohm. Come vi dicevo nell'introduzione il metodo consiste nella misura della resistenza e della reattanza di una o più spire avvolte attorno alla nostra ferrite. Per verificare il metodo ora ho inserito una ferrite conosciuta infatti questa è una FT24061 ferrite che può essere utilizzata come trasformatore di impedenza fino a 30 MHz per cui vado a leggere i valori di resistenza e di reattanza proprio a 30 MHz. Il nano VNA mi dice che la resistenza è 14,7 ohm e la reattanza è 43,8 ohm. Dati che andrò a scrivere sul taccuino e poi inserirò nel foglio di Excel. Ecco il foglio Excel come potete vedere è minimale ed alcune caselle hanno lo sfondo bianco altre caselle hanno lo sfondo grigio. Le caselle con lo sfondo bianco sono quelle dove dovremo inserire i dati mentre le caselle con lo sfondo grigio sono quelle che contengono le formule e ci rilasceranno i risultati. la ferrite che abbiamo appena esaminato era un FT24061 l'abbiamo misurata a 30 MHz e quindi scriveremo 30.000 kHz. Il numero di spire era uno solo e i valori che abbiamo rilevato erano 14,7 ohm 14,7 ohm e 43,8 la parte reattiva. I parametri fisici della ferrite 240 li possiamo trovare in questo altro tab che vedete qui sotto dove c'è scritto fisici. Andiamo a vedere per comodità e troviamo che A con E in centimetri quadrati è 1,58 mentre L con E è 14,5 quindi metteremo 1,58 qui al posto di 1,58 e abbiamo detto 14,5 quindi un 14,5. Una volta che abbiamo inserito i valori nel foglio Excel immediatamente avremo i risultati quindi l'impedenza complessiva è 46 ohm quindi siamo nel campo di misura dello strumento e la permeabilità magnetica mu primo serie è 169,7 la permeabilità magnetica mu secondo è 56,95 la permeabilità magnetica complessivo è 179 mentre la con L è 245,1 nano R per spira al quadrato. Poi ci sono altri calcoli che interessano a me tipo il tangent delta quindi il fattore di perdita e la mu prima parallela e la mu seconda parallela ma questi servono per fare altri calcoli. Ora andiamo a vedere sul datasheet della ferrite e vediamo se i dati combaciano. Questo è il database della ferrite ft2 4061 scaricata dal sito della ferrite come vedete nella prima colonna c'è la frequenza che è stata espressa in KHz nella seconda il mu primo serie e nella terza il mu secondo serie. Andiamo in corrispondenza dei 30 MHz 30 MHz non c'è ma ci sono 29,3 MHz che si avvicinano molto ai 30 MHz che abbiamo misurato noi. Qui riporta come mu primo 154,55 e noi abbiamo misurato 169,7. Se facciamo la bidifferenza vediamo che differisce di soli 15 che percentualmente corrisponde al 9,8 per cento circa. Ciò che riguarda il mu secondo invece abbiamo trovato al posto di 64,98 56,95. Questa volta abbiamo misurato un po' di meno e quindi è meno 8 che percentualmente corrisponde almeno 12,3 per cento. Direi che sono dei risultati molto buoni perché rientrano nelle specifiche della ferrite di più o meno 20 per cento. Ho cambiato il setup e ho volto una spira di filo per wire wrap AVG 30 all'interno di una ferrite binoculare bf 202 di grado 73. Questo tipo di ferrite è utilizzato quasi esclusivamente per fare trasformatori di impedenza in ricezione quindi nelle bevere o negli amplificatori per la banda dei 160 metri per cui la misura l'ho svolta a 1.744 MHz e il nostro VNA ci dice che la resistenza è di 37.2 Ohm e la sua reattanza è di 61,6 Ohm. Anche questi due valori li andiamo a scrivere nel nostro taccuino. Vi faccio notare che io cerco sempre di avere la reattanza circa il doppio del valore della resistenza perché questi più o meno sono i limiti di utilizzo per i trasformatori di impedenza. questa volta si tratta di ferrite binoculare una bf 202 73 quindi andiamo a prendere i dati fisici della 202 che sono 0,2726 che scriviamo qui questa è l'area 0,2726 ho dimenticato il 7,2726 e la parte di la lunghezza del percorso è 2,094 ecco fatto abbiamo misurato come resistenza 37,2 Ohm e come reattanza abbiamo misurato 61,6 61,6 il tutto a 1744,5 1744,5 kHz il mu primo è 3435 e il mu secondo è 2074 andiamo adesso sul delta sheet per vedere lo scostamento non la faccio tanto lunga e in questo caso lo scostamento è rilevante per ciò che riguarda il mu primo è molto più alto e praticamente è più del doppio del valore dichiarato e la parte anche la parte diciamo così di mu secondo è molto alta il 63% in più come potete vedere è sempre bene misurare i parametri della ferrite che si ha in mano perché ci potrebbero essere delle importanti sorprese anche questo video finisce qui se vi è piaciuto o vi è stato utile mettete un bel like ed iscrivetevi al canale attivando la campanella così non vi perderete i prossimi video alle prossime ciao